buongiorno sono chloe sales consultant presso umbrosa umbrosa sviluppa produce e vende gli ombrelloni più belli del mondo dal nostro stabilimento qua in belgio vendiamo in più di 80 paesi in tutto il mondo vi spiego il concetto della collezione ux tutti gli ombrelloni della collezione ux sono un'unica combinazione di colori e materiali con una massima facilità d'uso il telo la struttura e la base formano un unico concetto il versa è estremamente facile da usare grazie al nuovo concetto a ventaglio a 360 gradi è molto facile spostare l'ombrelone di altezza con una sola mano è possibile alzare e abbassare la leva e metterlo nella posizione desiderata per chiudere l'ombrelone la cosa più semplice è inclinarlo bene e aprire l'ombrelone con la maniglia tirando il telo così si chiude quasi in automatico per riaprire l'ombrelone basta rialzare la leva prendere il telo e fare un giro soprattutto per le persone piccole è interessante andare sulla base abbassare la maniglia per poi richiudere il telo dell'ombrelone grazie al sistema girevole integrato nella base è possibile ruotare l'ombrelone 360 gradi con la leva si può bloccare o sbloccare il sistema girevole e prendendo l'angolo della stecca è molto facile girare l'ombrelone la base elegante va riempita con 12 piastrelle per raggiungere un peso di più o meno 190 kg la base a quattro ruote con un freno che si possono bloccare o sbloccare per poter muovere l'ombrelone ovviamente si devono sbloccare mentre quanto c'è tanto vento è necessario bloccare i freni il versa può anche essere installato su una terrazza per esempio con la base circolare inclusa è anche possibile installare il versa in un terreno morbido come l'erba e per quello ci serve un ancoraggio in cemento come ogni ombrelone di umbrosa anche il versa ha la sua propria custodia che è inclusa con l'ombrelone consigliamo vivamente di utilizzarla per proteggere il telo dell'ombrelone la custodia è realizzata in materiale idro repelente non è impermeabile ed è proprio l'intenzione perché serve l'aria per prevenire la muffa adesso vi farò vedere come applicare al meglio la custodia sull'ombrelone ovviamente prima di tutto chiudiamo l'ombrelone prendiamo lo strap e lo stringiamo molto bene la custodia è dotata di una tasca per mettere lo strap così che non vada perso per mettere la custodia sull'ombrelone prendi in mano la stecca di fibra di vetro e i fili la custodia sull'ombrelone come vedete umbrosa garantisce una bellezza funzionale che rende felici i suoi clienti se avete delle domande io sono Chloe e sono a completa disposizione Grazie a tutti